Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata speciale di TSD Eventi dedicata alla settimana sociale dei cattolici che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 di ottobre. Lo facciamo in una cornice d'eccezione, la biblioteca storica del seminario di Arezzo e lo facciamo con altrettanti ospiti d'eccezione. Infatti insieme con noi questa sera ci saranno Piero Iacomoni, presidente di Mona Lisa S.P.A. Abbiamo Marco Randellini che è direttore dell'ufficio per la pastorale sociale del lavoro e abbiamo Andrea Sereni, presidente della Camera di Commercio della provincia di Arezzo. Grazie a voi tutti per essere qui con noi. Come vi dicevo nel corso di questa trasmissione che vi proporrà anche dei contributi video per approfondire alcune delle tematiche parleremo della settimana sociale dei cattolici. Una quattro giorni di approfondimento sul tema del lavoro, un tema di grande attualità nel corso del quale verranno denunciate alcune iniquità ma soprattutto si indicheranno alcune vie possibili per poter fare in modo che il lavoro possa ripartire in maniera partecipativa, libera e solidale. Nel corso della trasmissione approfondiremo anche tutto quello che riguarda il collegamento con il territorio aretino, con questo grande evento di carattere nazionale, ma non soltanto nazionale e avremo modo appunto di ricollegarlo con quello che è il contesto locale. Infatti oltre a partecipare una delegazione della diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro quest'evento verranno approfondite, si parlerà di due importanti realtà che appunto rappresentano questo territorio, due buone pratiche, due semi di speranza che fanno vedere come nel mondo del lavoro non ci siano soltanto le criticità ma anche delle possibili vie d'uscita positive. In particolare vedremo l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro portata avanti dalla Camera di Commercio e anche il welfare aziendale portato avanti da Mona Lisa SPA. Iniziamo allora questa trasmissione con un contributo video che ci introduce alcune delle criticità che sono presenti a livello locale nel settore del lavoro e anche avremo un riferimento per quello che riguarda la condizione femminile. Vediamo. Uno dei problemi principali che oggi noi abbiamo è la frammentazione del lavoro. Noi non abbiamo difficoltà nelle grandi aziende a descrivere i giovani o gli altri lavoratori. La difficoltà l'abbiamo nelle piccole imprese perché è impossibile garantire i diritti da quelli più elementari dell'Assemblea in una frammentazione che oggi è molto diffusa nel nostro territorio. E allora una risposta alla frammentazione sono gli enti bilaterali. Noi siamo riusciti in un settore come l'edilizia che ha perso la metà degli addetti a mantenere un ruolo e una tutela dei lavoratori nonostante che il settore abbia dimezzato gli addetti negli ultimi dieci anni. Da 5.000 siamo a 2.500 dipendenti. Però abbiamo garantito delle tutele grazie alla bilateralità che va diffusa anche in altri settori. Per quanto attiene la pubblica amministrazione è chiaro, uno Stato che vuole far partecipare i cittadini alla cosa pubblica e questo diventa un elemento fondamentale per il futuro se non vogliamo considerare che le risorse, le tasse vadano a fondo perduto. Se i cittadini devono partecipare i primi che devono credere nella partecipazione sono i dipendenti pubblici. Ma va rilanciata anche lì la contrattazione. Oggi un dipendente pubblico non contratta nemmeno il suo orario di lavoro, le ferie. Bisogna ritornare a contrattare la pubblica amministrazione. Che i dipendenti pubblici si riaffezionino alla pubblica amministrazione e questo sia un messaggio da lanciare al cittadino semplice che poi si affaccia ai servizi della pubblica amministrazione. Nonostante ci siano tante tutele e la nostra serie di norme che tutelano la maternità e quindi le donne sul lavoro siano molto avanzate purtroppo nonostante queste questioni l'applicazione di queste norme diventa complicata perché la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare è difficile e pone spesso alla donna una serie di scelte difficili da fare proprio perché manca anche la conoscenza di queste normative. Spesso le organizzazioni sindacali sono viste come ostacolo dai datori di lavoro per tutta una serie di motivi, cioè per tutta una serie di questioni. Invece posso essere un aiuto al datore di lavoro anche per far conoscere quali sono le norme che tutelano non solo le donne sul luogo di lavoro ma tutelano anche gli stessi datori di lavoro rispetto a tutta una serie di responsabilità. Eccoci nuovamente in studio in questa cornice particolare, quella della biblioteca del seminario di Arezzo. Abbiamo sentito la voce di uno degli osservatori più autorevoli di questo territorio, quello di uno dei sindacati della CISL. Adesso sentiamo l'opinione di un altro di questi osservatori, ovvero della Camera di Commercio. Abbiamo parlato di crisi, abbiamo sentito alcune delle parole del segretario della CISL della provincia di Arezzo. Qual è il contesto attuale dopo questi anni di crisi che si sono imperversati anche nel nostro territorio? Guardi, noi abbiamo passato degli anni, gli ultimi 10 anni, 15, che sono stati, direi, devastanti per l'economia del nostro territorio e abbiamo pagato un grandissimo prezzo in termini di chiusura di imprese e in termini anche dal punto di vista di perdita di posti di lavoro. Io non sono pienamente d'accordo con quello che diceva il segretario Salvini perché in realtà ha fatto un'analisi oggettiva sulle grandi imprese, dove è più facile ovviamente interloquire tra il mondo del sindacato e il mondo dell'impresa, ma in realtà dobbiamo dare atto soprattutto all'esistenza delle piccole micro imprese che hanno svolto una funzione, un ruolo sociale importantissimo nel mantenimento dei posti di lavoro. In queste imprese, come del resto in tutte le imprese, il vero valore aggiunto è dato dal personale, da quella capacità del saper fare che le persone che lavorano all'interno delle imprese sanno svolgere. E quindi direi che le imprese, anche quelle più piccole, hanno difeso, nonostante la crisi, il proprio personale assolutamente con tutte le loro forze. E questo lo dimostrano anche i dati perché con un calo di un PIL così importante, voi immaginate che dall'Unità d'Italia ad oggi, dal 1861 ad oggi, abbiamo perso, ci sono stati tre grandi momenti di recessione dove in media abbiamo perso tre punti e mezzo, quattro punti di PIL. Dal 2007 ad oggi abbiamo superato abbondantemente nove punti di PIL e quindi ci saremmo dovuti attendere in termini di disoccupazione dei valori assolutamente più grandi e quindi se non questa funzione di ammortizzatori sociali che in realtà poi le aziende hanno svolto, anche grazie, diciamocelo, all'utilizzo della cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, sicuramente l'impatto economico dal punto di vista sociale sarebbe stato di gran lunga maggiore rispetto a quello che è adesso. Speriamo e ce lo spieghiamo profondamente che i segnali di ripresa che vediamo e sono oggettivi perché dopo tanti anni di segni meno e di parametri tutti quanti accompagnati dal segno meno oggi, ormai da qualche, diciamo da un anno a questa parte, si individuano dei segni più però purtroppo accompagnati soltanto da uno zero virgola e questo ovviamente rispetto alle dinamiche, rispetto a numeri che ho detto antecedentemente, capite che il passaggio è estremamente lungo e soprattutto la percezione da parte sia delle imprese che da parte della gente ancora non è assolutamente percepita l'uscita dalla crisi. Ma a suo modo di vedere, cosa dovrebbero fare le imprese, soprattutto quelle più piccole, le piccole e medie imprese per guadagnare maggiore competitività e salvaguardare dunque anche il lavoro se non addirittura aumentare? Guardi, da questo punto di vista io ritengo che le imprese italiane complessivamente ma in maniera particolare quelle toscane del nostro territorio esprimano una grandissima capacità nel saper fare e non è un caso se molte marche nazionali ed internazionali vengono a far fare i propri prodotti proprio qui a livello del nostro territorio. Quindi gli ingredienti li abbiamo assolutamente tutti. Quello che manca forse nel nostro paese è una politica industriale che in qualche modo faccia emergere queste capacità. Come Camera di Commercio all'interno del nostro piccolo stiamo tentando in tutti i modi di promuovere quello che è l'economia del nostro territorio. Siamo, lo ricordo sempre, la prima provincia in Italia per export in rapporto al numero della popolazione. Una provincia particolarmente dinamica in termini di imprenditoria, si parlava prima di imprenditoria femminile. È una delle province assolutamente dinamiche anche da questo punto di vista. Quindi direi che è una provincia che ha tutte le potenzialità per uscire meglio rispetto ad altre province della Toscana dalla profonda recessione che ci ha colpito. Lei ha parlato delle imprese, delle piccole e medie imprese. Ne abbiamo una importante legata al territorio aretino, tra l'altro dove la componente femminile è molto importante. Si è parlato di crisi ma in questo periodo dove gli altri parlavano di crisi voi avete fatto un altro capannone se non sbaglio. Sì, a parte il capannone, credo che la crescita aziendale è stata sempre... Cioè qual è la ricetta? Come avete fatto? Il cambiamento. Mentre parlava il Presidente volevo intervenire per dire che il cambiamento per noi è sempre stato alla base quotidiana. La base quotidiana del lavoro è sempre pensare che se fai come ieri si sbaglia. Bisogna cambiare. Qualcosa va cambiato. Che vuoi cambiare? Si deve cambiare. Voi cosa avete cambiato? Noi si è cambiato... L'azienda di cinque anni fa non la riconoscerei io, che so l'inventore di questo marchio, non la riconoscerei io. Perché in questo momento abbiamo 102 negozi nel mondo. bisogna fare un'analisi completamente diversa da quella che era cinque anni fa, dove avevamo clienti plurimarca che vendevano anche il nostro prodotto. Noi abbiamo investito aprendo negozi, suggerendo a clienti affezionati di aprire un negozio e noi diamo il marchio. Non è un franchising perché è un sistema che lascia liberi tutti i commercianti. Qualora loro volessero ritornare sui propri passi, togliamo l'insegna e siamo pari. Io credo che il cambiamento sia stato nella parte commerciale questo e poi nel prodotto è continuamente un cambiamento continuo perché le collezioni si sono avvicinate. Ora sarebbe troppo lungo dover spiegare, però si è cambiato anche il modo di produrre e le produzioni che sono in un fason con terzisti, aziende più piccole della nostra. Da qui a Pescara c'è il 70% di tutta la produzione in Monnalisa. Sono sempre le stesse aziende a cui viene programmato il lavoro da un anno all'altro. E credo che il cambiamento anche lì dentro sia stato che ora le facce più toscane o italiane, sono estracomunitari che lavorano a macchina in molti casi. Però il cambiamento è continuo. Randellini, abbiamo sentito la crisi ha riguardato anche questo territorio. Come ufficio di pastorale sociale del lavoro voi avete riflettuto a lungo su questo, tra l'altro soffermandovi anche sul fatto che la crisi è prima di tutto culturale forse, prima che economica. A suo modo di vedere, sotto questo aspetto, cosa potrebbe essere fatto a livello locale soprattutto? Noi siamo un ufficio pastorale della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro e appunto ci occupiamo delle questioni attinenti al mondo del lavoro e dell'impresa. Mi piace sottolineare il fatto che ci occupiamo anche dell'impresa perché nell'accezione che noi portiamo avanti il lavoro e l'impresa non sono due cose distinte come era nell'Ottocento e eravamo abituati a capire. Parlavamo di lavoro come lavoro dipendente e come se il lavoro dell'imprenditore fosse qualcosa di tipo diverso. In realtà sono due cose che stanno molto bene insieme. Anche nella visione di Papa Francesco nell'ultima enciclica dell'Evangelii Gaudium che prende proprio a spunto la settimana sociale dei cattolici perché la settimana sociale dei cattolici di quest'anno si occupa di lavoro e di un lavoro proprio nell'accezione di Papa Francesco libero, creativo, partecipativo e solidale. Un lavoro creativo è un lavoro che si avvicina molto a quello dell'imprenditore. Quindi nel momento in cui ci siamo posti la necessità di andare anzitutto a verificare quelli che sono i motivi a base della crisi, ci siamo anche interrogati del perché è venuta fuori questa crisi. È venuta fuori, abbiamo tutti convenuto, i membri che compongono l'ufficio, dal fatto che è venuta fuori perché nel momento in cui l'imprenditore si è reso conto che guadagnava più a tenere i soldi occupati nella finanza piuttosto che nella produzione, ecco che allora ha smesso di produrre e si sono verificati poi le crisi che hanno ingenerato dal 2008 ad oggi tutta la dinamica diciamo di disoccupazione che è venuta fuori. Nel momento in cui l'imprenditore diventa speculatore e non produce ecco che si crea un cortocircuito in cui poi il lavoro, il lavoratore ne subisce le conseguenze. Quindi la settimana sociale rifletterà sul lavoro, il lavoro, ripeto, degno e cioè il lavoro, nell'accezione di Papa Francesco, libero, creativo, partecipativo e solidale. Poi magari ne possiamo parlare più approfonditamente. Proponiamo adesso un altro contributo video, dopodiché appunto approfondiamo questo aspetto perché come accennavamo anche in apertura, una delegazione a retina sarà presente alla settimana sociale di Cagliari per parlare appunto del tema del lavoro. C'è stato anche un percorso di preparazione a questo evento così importante, allora vediamo la testimonianza di due dei membri di questa delegazione e poi in studio avremo modo di commentarle più nel dettaglio. La settimana sociale di Cagliari avrà il lavoro al centro come tema, il lavoro così come declinato da Papa Francesco, cioè libero, partecipativo, creativo e solidale. La settimana sociale arriva in un momento storico del nostro paese in cui il lavoro è al centro dell'agenda politica, ma non solo, anche dell'agenda culturale. Dobbiamo ritrovare i valori che animano il lavoro in Italia, il lavoro che è posto a fondamento della nostra Repubblica, anche dalla nostra Costituzione, e che sembra però perdersi. Sembra perdersi per le cause dovute alla crisi, sembra perdersi per le cause dovute all'automazione, che quindi sta sacrificando alcuni posti di lavoro, anzi molti posti di lavoro. Sembra perdersi perché si appiattisce troppo sullo stipendio, quindi il lavoro che diventa lo stipendio che noi dobbiamo prendere e dimentica la dimensione di realizzazione della persona, dei suoi talenti. Una settimana sociale come quella di Cagliari servirà proprio a rimettere al centro la persona anche nel mondo del lavoro. Il lavoro è importante, il lavoro è il fondamento, come dicevamo, laico della nostra Repubblica, ma soprattutto è il destino della persona che attraverso il lavoro si realizza. Sono molto contento di poter rappresentare la nostra diocesi alle settimane sociali di Cagliari. Vado a Cagliari portando innanzitutto una preparazione che abbiamo fatto con la pastorale sociale del lavoro attraverso un censimento di quelli che sono i problemi del nostro territorio, ma anche quali sono le aziende che operano bene nel nostro territorio. Ma dall'altro lato porto anche l'esperienza del progetto Policoro, che in questi anni abbiamo ascoltato tanti giovani, e porto proprio a Cagliari la loro esperienza, le loro difficoltà, ma anche i punti di forza che sono presenti nel nostro territorio. Quello che mi aspetto a Cagliari è la speranza che ci possa essere delle risposte importanti poi da portare nel nostro territorio e soprattutto da dare ai nostri giovani. Abbiamo sentito tanto entusiasmo dalla testimonianza di questi due giovani che parteciperanno alla settimana sociale di Cagliari. Allora io chiederei a Marco Randellini di entrare un pochino più nello specifico che cos'è questo evento, che lo ricordiamo non riguarda soltanto la Chiesa italiana, la Chiesa universale, ma anche la società civile italiana. Parteciperanno accademici, parteciperanno decisori politici di altissimo livello, ministri, ex ministri, il presidente del Consiglio dei Ministri, cardinali, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo sentito anche il tema. Qual è la peculiarità di questo evento? Le settimane sociali dei cattolici italiani sono degli appuntamenti che si ricorrono dagli inizi del Novecento, diciamo, l'ideatore era Toniolo, quindi, e su varie tematiche. Quest'anno è stata individuata dal comitato organizzatore la tematica del lavoro. La settimana sociale che si terrà a Cagliari, come dicevi, dal 26 al 29 di ottobre prossimi, non sarà un convegno, ma un incontro per discutere in materia di lavoro in maniera molto pratica, con tavoli di lavoro, in cui ciascuno dalle diocesi porterà la propria esperienza. Ecco, appunto, le buone pratiche. Ovviamente porterà anche le denunce, cioè quello che è emerso dai territori come situazioni di disagio. C'è stato un periodo di ascolto che è durato, appunto, diversi mesi. C'è stato un periodo, appunto, di rielaborazione, di indagine e di sintesi di quello che, appunto, è il complesso del lavoro, della situazione lavorativa a livello delle singole diocesi. E poi c'è stato un progetto concreto, un progetto che è denominato Cercatori di LAV Oro, Oro con la O maiuscola, che ha individuato tutta una serie di soggetti che a livello diocesano sono andati a cercare, a esplorare queste buone pratiche. Questi cercatori di lavoro hanno individuato delle pratiche buone a livello lavorativo nel settore privato, quindi delle aziende, delle buone pratiche buone, appunto, nel settore delle pubbliche amministrazioni e della scuola. A livello diocesano la nostra consulta ha individuato una pratica ritenuta positiva, cioè da esportare anche in altri territori, che è quella, appunto, della società Monnalisa, rappresentata qui dal suo presidente Iacomoni, che è stata, appunto, individuata come buona pratica perché, appunto, ha innovato nel settore del welfare aziendale, cioè una parte importante che riguarda l'aspetto, diciamo, dei benefit nei confronti dei lavoratori che lavorano all'interno della propria azienda, quindi una visione sicuramente importante per valorizzare anche il capitale umano dell'azienda, che, come ricordava anche prima Iacomoni, all'interno di questa azienda è ritenuto sicuramente uno dei motori, insomma, dell'azienda stessa, e da parte delle buone pratiche nel settore pubblico ha individuato, appunto, la Camera di Commercio per il progetto dell'alternanza scuola-lavoro, sulla quale l'ente camerale si è impegnato molto come ente pubblico insieme a tutti gli istituti scolastici, poi magari, appunto, avremo modo successivo di chiarire con loro più nel dettaglio di che cosa si tratta, come buona pratica, appunto, da esportare anche in altri territori. Tutto questo dovrebbe portare, che cosa? Alle proposte, perché è importante il lavoro preparatorio per Cagliari, ma anche il dopo Cagliari. Il dopo Cagliari sarà, appunto, un portare all'attenzione del mondo politico e sociale, della società civile, quello che è stato, appunto, il lavoro fatto sinora a Cagliari e poi che verrà fatto a Cagliari e poi, successivamente, quello che potrà essere fatto, tutto quello che è importante fare, che si ritiene importante fare come cattolici, per, appunto, migliorare la situazione lavorativa e ridare speranza. E allora, lo abbiamo accennato, andiamo a conoscere una di queste prime buone pratiche che rappresenteranno il territorio aretino all'interno della settimana sociale. Parliamo della Camera di Commercio di Arezzo, antesignana sotto questo aspetto, sul tema della formazione e dell'alternanza scuola-lavoro. Allora, vediamo questo contributo video e poi ne discuteremo insieme in studio. Sono 25 anni che la Camera di Commercio di Arezzo porta avanti un progetto di alternanza scuola-lavoro. Siamo stati i primi in Italia. È stata un'esperienza, poi, come dire, mutuata in altri contesti territoriali ed è un'esperienza che è stata riconosciuta da Union Camera nazionale come la best practice a livello nazionale per quanto riguarda il colloquio fra mondo della scuola e mondo del lavoro. E abbiamo visto che la creatività e l'innovazione di questi ragazzi si ha portato a dei risultati aziendali, dei progetti reali, dal dirigibile per le previsioni meteorologiche, alla bicicletta elettrica, pannelli solari, quindi delle realizzazioni concrete che hanno portato veramente a una creatività e a un'innovazione di risultato. Ogni anno in Italia nascono moltissime imprese di giovani under 30. per evitare che il giovane intraprenda un'attività di impresa senza le conoscenze, le nozioni e magari questa attività di impresa si risolva anche, non solo in un fallimento del giovane, ma anche della famiglia, di tutto il contesto sociale che è intorno al giovane. Ecco, noi facciamo dei corsi molto mirati per addestrare, formare il giovane che abbia un'attività di impresa, quindi nozione su come si fa un business plan, nozioni su aspetti fiscali, su aspetti contrattuali e proprio da questo punto di partenza siamo partiti per formare i ragazzi a tecniche di digitalizzazione delle imprese. Formiamo questi ragazzi affinché possono essere dei consulenti per le imprese, per disegnare i siti aziendali, abilitare i siti aziendali al pagamento elettronico, ripeto, a sensibilizzare il contesto economico a questa frontiera importante e sicuramente profittevole da un punto di vista reddituale che sarà il digitale nei prossimi anni. E allora noi torniamo in studio qui dalla biblioteca storica del seminario di Arezzo, abbiamo visto la Camera di Commercio attivissima sul fronte della formazione, dell'alternanza scuola-lavoro, della promozione del digitale e dell'autoimprenditorialità. Come mai voi avete scommesso da così tanti anni, addirittura prima, che diventasse un punto di riferimento a livello nazionale questo progetto, quello dell'alternanza scuola-lavoro e quali sono anche i frutti che potete dire di aver raccolto in questo periodo? Guardi, questa è stata direi una scommessa riuscita da parte della Camera di Commercio di Arezzo perché abbiamo letteralmente anticipato il legislatore di ben 20 anni e è stato un esperimento assolutamente interessante perché nel corso di questi anni abbiamo letteralmente tentato di sensibilizzare le imprese e le aziende del nostro territorio sulle tematiche di alternanza scuola-lavoro. Direi che in parte ci siamo riusciti, come ricordava poco fa il segretario generale dottor Salvini e è una pratica che stiamo portando avanti, adesso inserita tra l'altro all'interno della riforma del sistema camerale che è stato profondamente rivisto il ruolo delle Camere di Commercio in Italia e uno dei pilastri fondamentali è proprio quella dell'alternanza scuola-lavoro. Noi vogliamo dare la possibilità e l'opportunità a tutti i ragazzi del nostro territorio siccome le ore sono davvero tante perché si parla di 400 ore per gli istituti tecnici nel triennio e di 200 ore nei licei, quindi considerato che i ragazzi sono grosso modo intorno ai 10.000 voi capite perfettamente che le ore da impiegare sono davvero tante quindi è una scommessa assolutamente importante che non solo la Camera di Commercio ma un intero territorio deve portare avanti perché abbiamo il dovere direi di dare a tutti quanti la solita possibilità di andare a esercitare questo strumento che è uno strumento importante per avvicinare i ragazzi e le imprese tra di loro. Anche quest'anno siamo andati molto avanti accanto con le scuole del territorio su questo filone. La scommessa ulteriore sarà quella di aumentare la qualità dell'alternanza scuola-lavoro perché come ricordo sempre non sono e non devono essere solo sufficienti le ore ma la qualità delle ore che i ragazzi fanno all'interno delle imprese. Questa deve essere un'esperienza che i ragazzi e le ragazze si dovranno portare sempre con loro e che gli dovrà servire per tutta la vita per comprendere quali sono quei punti di forza che oggi le nostre imprese richiedono. Che al contrario di quanto si possa immaginare non è il solista, cioè l'impresa oggi non vuole più il solista ma vuole la persona che riesce in qualche modo a relazionarsi con gli altri, a fare squadra e quindi a portare avanti quel cambiamento continuo e costante che poco fa ricordava il Piero Iacomoni. Quindi direi che nel nostro territorio l'alternanza scuola-lavoro, ancora sicuramente da correggere su tutta una serie di condizioni, ma sta funzionando di più rispetto a tanti altri territori nazionali proprio perché, per dare merito a chi lo deve avere, oltre 20-25 anni fa qualcuno estremamente lungimirante in Camera di Commercio ha capito che questi due mondi, il mondo della scuola e il mondo del lavoro dovevano essere assolutamente a tutti i costi avvicinati tra di loro. In apertura di questa trasmissione noi parlavamo della crisi, voi la risposta alla crisi credo che si possa dire e l'avete individuata nello scommettere un po' anche sui giovani con questo progetto dell'alternanza scuola-lavoro abbiamo parlato anche di autoimprenditorialità, abbiamo parlato di scommessa nell'ambito del digitale se non sbaglio sono poco più del 10% le aziende nella provincia di Arezzo che hanno un sito internet poi bisogna vedere anche questo sito come funziona e come è fatto. Se funziona. Se funziona, esatto. Lei ha individuato esattamente un'altra problematica che riguarda non soltanto la nostra provincia ma riguarda un po' tutto il nostro paese. Noi partiamo anche da questo punto di vista da dei dati statistici e oggettivamente abbiamo visto che tutte quelle imprese che in qualche modo si sono digitalizzate, che quindi riescono a incrementare il loro fatturato e con il loro fatturato ad incrementare anche il livello occupazionale. Quindi anche per spinta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dal quale ovviamente noi dipendiamo, dobbiamo, e anche questa è un'altra colonna portante della riforma del sistema camerale, dobbiamo far sì che quel 10% di imprese cresca in maniera esponenziale perché non soltanto, come dicevo prima, aumentano in termini di fatturato e occupazionali ma soprattutto riescono ad esportare molto di più. Questa sarà la scommessa direi assolutamente vincente per i prossimi anni. Come ricordava prima Piero Giacomoni, questo territorio sa produrre, sa produrre eccellenze, sa produrre qualità. Quello che ci manca in realtà è la capacità di vendere complessivamente, di far conoscere i nostri prodotti molto di più di quelli che non sono conosciuti oggi. E penso che qui ci giocheremo oggettivamente il ruolo della nostra economia, delle nostre imprese per il prossimo futuro. Una grandissima scommessa che tutti assieme dobbiamo portare avanti. Giacomoni, la sua azienda, Monnalisa, ha partecipato a questo progetto dell'alternanza scuola-lavoro. Brevemente ci può dire qual è la vostra esperienza? Credo che con la Camera di Commercio si collabora da sempre. Ora ho detto 25 anni, non so se già da allora abbiamo collaborato, ma credo di essere una delle aziende che crede in questo, nei giovani, crede nell'avvicinare il giovane all'azienda. Cioè il fatto dell'uelfare aziendale Monnalisa non è perché ha trovato un titolare che 50 anni fa ha cominciato questa azienda e vuole essere buono con i collaboratori. Io sono convinto che è un plus, è un valore, è un valore aggiunto il fatto di avere dei collaboratori che possono avere un riconoscimento sul lavoro che hanno fatto e non è mai personale. Come ho sentito prima, non si cercano più giovani a livello Leonardo da Vinci, ma dei gruppi che possano parlare fra di sé. E sono convinto che il gruppo possa fare molto di più. E per questo che l'apertura che c'è nello staff dirigenziale della Monnalisa porta sempre il giovane a crescere assieme. E questo io lo vedo ora da un lato di presidenza, non più come il ceo della situazione di prima. Però ha avuto un grande valore negli anni. E questo sono convinto che è radicato in noi. Per noi che non siamo mai voluti andare a portare il lavoro all'esterno, perché è nato esternamente dall'azienda di Arezzo. Però sempre con i laboratori di 50 anni fa continuiamo a lavorare. Perché questo credo che sia un valore, una cosa radicata nell'azienda. Cioè tenere le persone e valorizzarle per quello che sono. Perché io posso fare quello che mi sento di fare da leone, però non posso fare i 252 collaboratori che ho. E quindi fare per condividere e condividere per cambiare. Sono tutti verbi che se riesci a metterli in atto danno grandi risultati. Randellini, com'è che avete scelto questa... Potevate scegliere fra mille buone pratiche da presentare agli organizzatori. Avete scelto questo, oltre che all'altro progetto di cui poi entreremo più nel merito. Allora, abbiamo scelto questo progetto perché è un progetto innovativo. Rispetto al panorama di quelle che sono le attività che svolgono benissimo e tantissimi imprenditori tutti i giorni ad Arezzo, Cortone e Salsepolcro. Nel nostro territorio c'è veramente una vivacità imprenditoriale importante. Lo ricordava anche prima il Presidente Sereni, soprattutto sul Made in Italy e sul Saper Fare, che è tutto nostro. La peculiarità era portare a Cagliari qualcosa di innovativo. Il welfare aziendale ci è sembrato che avesse quella caratteristica di innovatività da poter essere usata come buona pratica, replicabile. Quindi questo è stato l'elemento che ci ha fatto capire, che poteva essere qualcosa di utile da portare nella discussione e far vedere che una buona azienda retina come Mona Lisa, che nonostante la crisi è andata avanti, una piccola media impresa che ha sostenuto occupazione e valore aggiunto sul territorio, ha guardato, nel momento in cui forse era più facile licenziare, mandare a casa, impiegare i capitali in altro modo, ha rischiato e ha dato la possibilità a dei dipendenti, utilizzando in maniera intelligente la normativa attuale, degli strumenti a vantaggio dei propri dipendenti. Questo è stato, diciamo, secondo noi una buona pratica che poteva essere portata a Cagliari e discussa, ovviamente, all'interno dei tavoli di lavoro. Allora, vediamo questo video che è stato realizzato per l'occasione, che ci parla di questa esperienza di Mona Lisa, del welfare aziendale, che grazie anche alle normative che sono state introdotte dal governo recentemente, sono state rese possibili. E poi cerchiamo di capire più nel dettaglio anche qual è la situazione a livello locale sotto questo aspetto. La maggior parte, diciamo, dei dipendenti Mona Lisa hanno famiglia, oltre che la gran maggioranza sono donne, sono tutte, la maggioranza è madre, con figli piccoli, e quindi anche l'avvertire all'ultimo momento, un contrattempo, il poter entrare e uscire. Insomma, questa flessibilità è a tutto tondo in questo senso. Abbiamo fatto partire una corsia preferenziale delle alternanze a scuola lavoro e dei tirocini ai figli dei dipendenti. Quindi, proprio in questi giorni, partono delle alternanze a scuola lavoro di due ragazzi che sono figli dei miei colleghi e un tirocino tramite la regione toscana sempre della figlia di un'altra collega. L'azienda ha messo a disposizione un piano piuttosto che dare dei premi in denaro, ha deciso di mettere a disposizione dei benefit. E quindi, tramite un'azienda, è stato creato appunto un sistema dove si possono scegliere questi benefit. Sono completamente semtasse e riguardano libri scolastici, asili, scuole, agenzie di viaggio, cinema, biglietti del teatro, acquisti di libri. E comunque sta ampliando, perché diciamo che è stato messo in piedi dall'anno scorso. In ambito dell'assistenza sanitaria abbiamo attivato una convenzione con un'azienda e praticamente una parte di questa associazione, di premio associativo, chiamiamolo così, viene pagata dall'azienda. Una minimissima parte viene pagata dal dipendente, cioè anche con la possibilità di introdurre i familiari. Allora, torniamo qui in studio alla Biblioteca Storica del Seminario di Arezzo. Abbiamo visto questa seconda buona pratica della quale si parlerà al convegno alla Settimana Sociale dei Cattolici di Cagliari, che si svolgerà dal 26 al 29 di ottobre, lo ricordiamo un'altra volta, e che avrà al centro il tema del lavoro. Abbiamo visto Mona Lisa, che oltre che portare avanti anche un progetto di alternanza scuola-lavoro, di cui parlavamo poc'anzi anche con il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, porta avanti questo tema, quello del welfare aziendale. Tra l'altro ha avuto anche questo riconoscimento del welfare index legato alle piccole e medie imprese per l'impegno che ha proprio per la promozione del welfare a livello aziendale. Come mai voi avete scelto di scommettere un po' all'inizio anche da quale è stato reso possibile dal Governo sostanzialmente di intraprendere questa strada? Ho detto prima che l'azienda è radicata nel territorio, cioè io vengo da un paese, Monte San Savino, e ne sono fiero, mi sembra di avere unito con i viaggi fatti, con il modo di lavorare, avere unito più culture, avere un po' capito che il mondo è molto piccolo, perché alla fine facciamo dei bellissimi prodotti e poi bisogna cercare di piazzarli nel mondo. E piazzarli nel mondo bisogna prendere e partire. Ecco, questo è stato fatto in due parole dentro un'azienda come la nostra attualmente. Io sono convinto che tutto questo è stato possibile perché le persone che fanno parte hanno un intangibile molto alto. Sono contenti di stare alla Mona Lisa. Non abbiamo turnover. Io questi sono i dati che guardo con un turnover zero o tendente a zero perché uno si è trasferito in Bazzi Italia con il marito con un tendente a zero io capisco che la gente lavora volentieri e questo dà un valore aggiunto all'azienda e sono convinto che sia giusto riconoscere anche economicamente una parte di questi utili. Sono cose semplici alla fine che non è che penso che molte aziende abbiano detto come ha detto prima Randellini abbiano fatto dello scopo finanziario il loro modo di vita. Noi si è fatto una produzione da 50 anni di cose belle che come dice la mia moglie fanno felice qualche bambino e io sono convinto che questo sia vero e portando la produzione nel mondo abbiamo fatto vedere se esiste Arezzo e esistere Arezzo vuol dire essere come oggi in questa bella biblioteca ma anche altre belle realtà abbiamo in questa città da mostrare e questo io lo esprimo con i capi della Mona Lisa e con i miei collaboratori che lavorano con le interi spero. Sereni qual è la situazione a livello locale sotto questo aspetto quello del welfare aziendale c'è la consapevolezza delle opportunità che ci sono oppure viene visto anche a volte in maniera ideologica come negativo? Ma c'è una crescita culturale importante in questi ultimi anni sul welfare aziendale anche perché al di là della capacità che abbiamo che è innegabile di fare prodotti di eccellenza di qualità poi in realtà dobbiamo dargli quel valore aggiunto che è quella intangibilità che ricordava prima Piero Iacomoni cioè l'attenzione verso la persona quindi tutto quello che questo è un prodotto fatto tenendo in considerazione l'attenzione verso il territorio verso l'ambiente verso le persone cosa che in molti altri paesi del mondo non avviene così non accade così e quindi è quel valore aggiunto in più che un consumatore consapevole può fare la scelta nell'acquisto quindi anche questo sarà un tema importante che dovremmo trattare pensare e ampliare nei prossimi anni perché non è pensabile di potersi comparare e mettersi in competizione con paesi dove il costo della manodopra è davvero bassissima quindi noi ci dovremo in qualche modo e lo stiamo già facendo in qualche modo ci dobbiamo contraddistinguere e credo che quella del welfare sia una strada assolutamente giusta e anche ripeto nella nostra provincia in questi ultimi anni ci sono aziende come Monnalisa ma anche molte altre che hanno davvero un occhio di attenzione su certe tematiche una di queste lo ricordiamo per esempio è anche AISA SPA che è una società completamente pubblica naturalmente il tema del welfare aziendale è legato a quello più generale della responsabilità sociale d'impresa sotto questo aspetto Marco Randellini in chiusura poi dopo il tempo a nostra disposizione diciamo è terminato cosa si può fare quali sono poi anche le aspettative a seguito di questa settimana sociale le ricadute a livello locale che vi attendete noi ci attendiamo un rilancio del tema dell'occupazione come il tema che sta in cima all'agenda politica già lo è ma bisogna passare dalle parole ai fatti e quindi alle proposte la settimana sociale non porterà con presunzione insomma le proposte ma ne porterà perché ci sono ne verranno discusse si valuterà i pro e i contro l'importante è che se ne parli e poi si appunto arrivi anche ad una sintesi perché questa è la cosa più auspicabile ripeto noi portiamo avanti come settimana sociale l'impostazione che il lavoro deve essere degno il lavoro degno è il lavoro che ripeto ancora una volta nello slogan della settimana sociale il lavoro libero quindi il lavoro non schiavistico non delle 12 ore al giorno sotto pagate mal pagate del caporalato il lavoro creativo perché come anche diceva prima il presidente Sereni bisogna passare dalla qualità non dalla competizione nel prezzo che non porterà mai da nessuna parte perché c'è sempre qualcuno in qualche parte del mondo che produrrà con un costo inferiore quindi a qualità e innovazione creatività il lavoro deve essere creativo in questo senso e il lavoro deve essere anche partecipativo perché si lavora insieme ad altri l'abbiamo detto tra le righe forse non è emerso tanto lo ripeto e lo sottolineo io è importante valutare il lavoro anche come progetto comune progetto di più persone che si mettono insieme ognuno con le proprie capacità con i propri carismi è il lavoro solidale perché poi porta al bene comune quindi ci sono tutti i contenuti della dottrina sociale della Chiesa e noi siamo in chiusura non ci resta che ringraziare i nostri ospiti il presidente della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni grazie per essere stato con noi Marco Randellini direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro Piero Giacomoni patron e presidente di Mona Lisa SPA questa puntata speciale TSD eventi è al termine vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che potrete vedere questa trasmissione anche su YouTube e nel nostro sito www.tsdtv.it grazie è tutto e arrivederci a presto